Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare i muffin con le pesche. Gli ingredienti che serviranno per fare i muffin alle pesche sono 60 grammi di farina, 30 grammi di zucchero, 25 grammi di olio, un uovo piccolo, 50 ml di panna, 60 grammi di pesche o in alternativa le fragole, mezzo cucchiaino di lievito. In una ciotola ho messo la farina, lo zucchero e il lievito e ho amalgamato. In un'altra ciotola ho messo la panna, l'olio e l'uovo e ho amalgamato. Adesso vado a mettere gli ingredienti liquidi in quelli secchi e vado ad amalgamare. Una volta che ho amalgamato bene l'impasto vado ad aggiungere le pesche e delicatamente vado ad amalgamare. Ho preso un pirottino di carta come questo e l'ho messo all'interno di un pirottino in silicone e sono andata a riempire con l'impasto. Con la dose che vi ho dato a me me ne sono usciti 6 di questa dimensione. Adesso vado ad infornare a 180 gradi per 20 minuti. Ho tolti i miei muffin dal forno e li ho fatti raffreddare. Ho montato la panna e ho decorato i muffin con la panna e dei pezzettini di pesca. Ciao a tutti, spero che questa ricetta vi sia piaciuta.